E' scattato ieri l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi antiabbandono. A ricordarlo è il Ministro dei Trasporti specificando che il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo codice della strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo le entrate in vigore 15 giorni dopo, appunto il 7 novembre 2019. Per agevolare l'acquisto dei dispositivi nel DL Fisco è stato istituito un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. L'ASAPS, Associazione Sostenitori Polstrada, ha spiegato che il Ministero dell'Interno ha divulgato ieri la circolare esplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per attuare il decreto del MIT relativo al regolamento sull'articolo 172 del nuovo codice della strada. Il decreto, spiega l'ASAPS, prevede che i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici percepibili all'interno o all'esterno del veicolo. Potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggio e chiamate. Il decreto del Ministero dei Trasporti ha stabilito anche le caratteristiche tecniche di questi dispositivi, che potranno essere integrati all'origine nel seggiolino oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso, oppure un sistema indipendente del seggiolino e dal veicolo. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall'articolo 172 del codice della strada, con sanzione amministrativa da 81 a 326 euro, pagamento entro 5 giorni 56,70 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.